è stato un po' strano è stato molto strano però devo ringraziare tutti ho filmato poco all'inizio ero teso, emozionato fin da subito e poi volevo vedere fino in fondo di questo momento però devo ringraziare tantissimi miei amici che hanno svolto un ruolo fondamentale in questa mattinata hanno ottenuto alto il morale e hanno reso scherzoso questo momento che altrimenti sarebbe stato molto difficile da affrontare quindi l'avrò detto mille volte ma grazie, grazie a tutti col cuore da qui in poi ho già iniziato a conoscere delle bellissime persone che mi hanno permesso di vivere con spensuratezza questi primi momenti ho trovato dei ragazzi gentilissimi che mi iscriveranno a Esbe due ragazzi di Hamburgo mi ha regalato una cosa finissima Pointy è un libricino in cui tu punti il dito per spiegarle cose è legale si sale per il treno per Viena per Mata Is Grazie a tutti 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E adesso c'è Oggi non volevo spendere neanche un euro però purtroppo per colpa di bagni è piuttosto di spesso i maledetti bagni poi li ha vinto non ho riuscito a non spendere neanche un euro perché costava 50 centesimi primo treno notturno ed è tutto per me c'è un letto a castello in cui non c'è nessuno un altro letto a castello in cui non c'è nessuno c'è un letto, un altro letto poi qua c'è una vista che magari domani un'altra vista qua, domani adesso è arrivato il momento di andare a dormire parla a bassa voce perché magari disturbo quello di fianco però veramente vi ringrazio tutti e contatto tutto davvero, non ho detto migliaia di volte ma grazie e al prossimo video, ciao! grazie a tutti!